Ecco, cari amici, torniamo in diretta dal Palazzo di Governo di Barletta. Siamo in compagnia con il Vice Sindaco di Canosa di Puglia, Francesco Sanluca. Buongiorno, Francesco. Buongiorno a voi. Ecco, siamo qui perché avete sottoscritto il Patto per la Sicurezza, un importante dato, dato appunto dalla Prefettura, insieme anche al Vice Ministro dell'Interno, Mauri, proprio per la sicurezza che la città ha richiesto. Beh sì, si rinnova la sottoscrizione di questo patto periodicamente, l'abbiamo già fatto due anni fa. Sono degli atti molto importanti, devo dire, perché ci consentono poi di accedere a dei finanziamenti ministeriali senza i quali, ecco, sarebbe impossibile accedervi. Sono dei documenti importanti che coinvolgono l'intera cittadinanza. Ecco, dopo il Ministro Crimi, che è stato da noi a Canosa qualche settimana fa, e oggi era presente il Vice Ministro Mauri, ecco, questa è testimonianza della presenza importante del Governo sul nostro territorio. Sono dei documenti scritti, adesso tocca a noi dare seguito con delle azioni importanti e tradurre ciò che è teoria, ecco, in pratica, ma serve il coinvolgimento di tutta la cittadinanza. Ho citato prima alcune azioni messe in atto dal Governo, che non bisogna sottovalutare. Il reddito di cittadinanza, ad esempio, è una misura molto importante, perché coinvolge le fasce più disagiate dal punto di vista sociale ed economico e sono quelle fasce dove si insinua, ecco, la delinquenza e la criminalità. Dopo i fatti criminogeni di Canosa, ecco, era importante oggi sottoscrivere questo documento e assieme alle associazioni di categoria adesso avremo una serie di incontri per vedere quali azioni mettere in atto. Ecco, quindi si è parlato anche di molta sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani. Sì, i giovani sono un po' la nota dolente, un po' della nostra società per il rispetto delle regole. Lo vediamo all'uscita dalle scuole, quasi nessuno indossa la mascherina. Ecco, io voglio fare un appello ai ragazzi, state molto attenti, indossate la mascherina e indossatela nel modo giusto perché il virus si diffonde in maniera impercettibile, quindi noi dobbiamo cercare di limitare questo contagio perché potremo avere la sanità che va al collasso e quindi potremo anche non cavarcela. Quindi bisogna stare attenti e essere responsabili. Ecco, si è parlato anche di tenere sotto controllo anche delle aree particolari. Noi nel centro cittadino abbiamo una via particolare dove si dice che si spaccia droga. Quindi anche quell'area voi continuerete a controllare? Sì, continueremo a controllare, ci avarremo della tecnologia. Questi patti servono anche per accedere a finanziamenti per l'acquisto di videocamere di sorveglianza. Ecco, ma non è solo questo, bisogna intervenire nelle periferie. Noi stiamo sottoscrivendo una serie di bandi tipo quello sport e periferia in Viale Primo Maggio ma anche ad un altro della Regione Puglia che scade il 3 novembre. C'è un coinvolgimento dell'attività sportiva con quelle che sono le zone più disagiate della città. Su a Torre Caraccio ad esempio abbiamo fatto un importante investimento che durerà tre anni per la sostituzione degli infissi. Quindi è un completamento della riqualificazione energetica di quegli immobili. Quindi restituire dignità e un decoro architettonico a questi immobili serve per consentire a queste persone di sapere che lo Stato è vicino a loro. Quindi possono sentirsi vicini e sapere che noi siamo sempre con loro e quando hanno bisogno noi ci siamo. Ecco l'ultima domanda, abbiamo avuto insomma quel brutto attacco al nostro commissariato di polizia. Ecco si sta chiedendo anche di alzare il muro dove appunto sono entrati i delinquenti. Sarà possibile visto che la proprietà è comunale? Sì, noi abbiamo dato la nostra disponibilità, abbiamo fatto un sopralluogo. Adesso faremo un preventivo, in realtà l'abbiamo già fatto, bisogna trovare le risorse e credo che lo faremo a brevissimo. Grazie, grazie Vice Sindaco e buona giornata. Grazie a voi, ciao.